Aveva deciso di denunciare l'ex compagno per Stolking, Lettra Rosso, la donna di 45 anni uccisa ieri mattina da Antonio Farina, 46 anni, nello studio legale di un noto professionista salernitano. La tragedia si è consumata in pochi attimi, intorno alle 8.30, al primo piano del Civico 9 in via Giabattista Nicolini, nel quartiere Mercatello a Salerno. Secondo le ricostruzioni eseguite dai carabinieri diretti dal capitano Enrico Calandro, la donna è giunta di buon'ora, come era solita fare, nello studio legale dove collaborava da alcuni mesi. Al citofono ha risposto l'avvocato, che era già al lavoro e che ha aperto il portone lasciando socchiusa la porta d'ingresso. La donna, presumibilmente, non si era accorta di essere stata seguita da Antonio Farina, che è riuscito ad entrare nell'appartamento, bloccando Lettra Rosso nel corridoio. Dopo un brevissimo litigio, l'uomo ha sparato all'ex compagna tre colpi di pistola calibro .38, poi ha rivolto l'arma contro di sé, esplodendosi un colpo alla tempia. La donna, raggiunta da tre proiettili che si sono conficcati alla nuca, tra le spalle e nella testa, è deceduta all'istante. L'uomo, trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sottoposto a intervento chirurgico, è morto nel pomeriggio di ieri. Secondo la ricostruzione, seguita dai carabinieri, Lettra Rosso e Antonio Farina avevano avuto una relazione dalla quale era nata una bambina, oggi tredicenne. Da alcuni anni, il rapporto era finito, ma l'uomo non si rassegnava e, nonostante avesse una nuova compagna, aveva più volte tentato di riavvicinarsi alla ex, anche con minacce e atti persecutori, tanto che la donna aveva deciso di denunciarlo per stalking. Una storia finita nel sangue che ha lasciato sgomenti quanti conoscevano la coppia. Ora, il pensiero di tutti è rivolto soprattutto a quella ragazzina di 13 anni, vittima innocente di una tragedia che nessuno avrebbe potuto prevedere. Con molta probabilità, la minorenne verrà affidata alla zia materna. I funerali dei suoi genitori nel pomeriggio di oggi, in orari diversi e in chiese distanti, a materno quelli di Antonio Farina, a Mercatello nella parrocchia di Santa Maria a Mare, i funerali di Lettra Rosso.